Anche il signor Gentry è uno scrittore. Gli ho detto che tu eri uno scrittore e voleva conoscerti. Non ti dispiace, vero? No, non mi dispiace. Il signor Gentry è un amico mio. Mi dispiace se vado ora. Ok. Quella scena in ufficio me la portavo dietro. I sigari, i bei vestiti. Mi venivano in mente buone bistecche, lunghi vialetti lastricati che salivano e portavano a belle case. Bella vita. Viaggi in Europa. Belle donne.